Ci si mette pure il commissario che può entrare e può fare le croci sulle mie piante come li aggrada, questo porterebbe me ad un'esasperazione tale di qualche momento non controllata. Sono pronti a opporsi con ogni mezzo all'eventuale eradicazione dei loro alberi secolari, gli oltre 300 soci della cooperativa agricola squinzanese. Da questa solida realtà del Nord Salento, 2.000 ettari di uliveti e una raccolta annuale di 40.000 quintali di olive, è partita ufficialmente la campagna d'azione che vede in prima linea i contadini. Se la scienza fallisce, se la politica non dà risposte e le associazioni di categoria diventano controparte, affermano gli olivicoltori, allora non resta che affidarsi all'esperienza tramandata di generazione in generazione. I soci della cooperativa chiedono con forza l'istituzione di un tavolo di trattativa con il commissario straordinario Silletti. Non vogliono sussidio o contributi, ma avanzano proposte concrete. Un buono per l'acquisto di concimi disinfettanti a base di azoto, energia gratuita per irrigare gli oliveti durante il periodo estivo, la cancellazione dell'IMU e la rinegoziazione dei contributi agricoli. Ogni giorno che passa si sentono focolai avanzare. Allora significa che fino ad oggi noi abbiamo avuto la diagnosi, non abbiamo una terapia. Lasciamoli provare la terapia almeno agli agricoltori, data la loro esperienza. Grazie. Grazie.